Musica Allora ho visto che non ho più niente nell'inventario Ora non mi ricordo esattamente se mi ero svuotato io Non mi sembra perché avevo un bel po' di roba nella No 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 Io spero che tu stai scherzando veramente Signori abbiamo perso tutto Allora Sì ho effettivamente perso tutto Non ho più niente come potete vedere Signori vedete qua che ho fatto un'altra stradina Allora ho deciso di fare questa roba Tipo due pass Due parti La parte infernale tra virgolette E la parte paradis La canna roba del genere Tipo lì vedete che c'è l'acqua E qui invece c'è il nether Magari potremmo buttare giù la lava Però lagherebbe un po' troppo Però va bene così Scusate se magari sto usando la Spacefull Dunque non perdo cibo Nient'altro però Capitemi ho perso tutto Il cibo Ho perso tutto E almeno Almeno non voglio evitare Di trovarmi altri problemi Dunque ok Perfetto del ferro Ok Allora È passato veramente Tanto tanto tempo Fidatevi da quando Della clip precedente E vedete che in mano Tantissima roba Allora ho avuto la fortuna Immensa di trovare Un'altra Grande Ma grande 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 Caverna Potete credermi o non Credermi ma ragazzi Ho trovato veramente Una caverna enorme Guardate quanto roba Ho racimolato Era veramente Un sacco di roba Ok Allora Dopo aver Sistemato un po' Tutto il casino Che era successo Possiamo Accendere Il portale Del nether Allora Prima di Andare nel portale Vorrei fare un attimino Una cosa Porca puttana Ok Dopo aver fatto Sta bella stronzata E aver perso Una quindicina Di livelli Possiamo andare nel nether Dunque Pronti ad andare E sblocchiamo pure L'obiettivo Eccoci qua Achievement Perfetto Quello del nether Signori Il nether È nostro Attenzione Signori Perché guardate Un po' Cosa ho trovato La fortezza Oh mio dio Cioè Veramente in questo mondo Sto trovando Tutto Tutto sto trovando È veramente incredibile Allora Adesso dobbiamo Ricordarci Che ci sono I blades E i weeder Ok Sono veramente pronto Per affrontare Queste sfide No Però Boh Io ci provo Oh merda Lo spawn di blades Oh minchia Allora Allora Lato positivo È che mi hanno dato Già una verga Di blades Adesso Non mi ricordo Cosa si può fare Con quella roba lì Però so solo Che si poteva fare Qualcosa di figo Ok A parte il fatto Che sto morendo Un attimino Un attimino Un po' troppo No 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 Sto gran cazzo No Non ci credo Dunque Qual è la situazione Ho trovato finalmente Dov'è che ero morto Perché sono morto Un'altra volta Come se non bastasso Perché sti buchi qui Mi fanno cadere Ogni due per due Dunque Devo riuscire In qualche modo A raggiungere La fortezza Ok Eccola là È là È là È là Non vorrei dire Gente ma Oddio Sì 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 Oh mio dio Oh mio santo Dio benedetto Gesù Che botta Di culo C'è andata veramente Tanto Tanto di culo Un po' di roba È caduta sotto Però Ok Non abbiamo perso Tanti Oddio Abbiamo perso un po' di cose Sì Ma non Troppe Troppe Per fortuna Altrimenti Veramente io Giuro che Esplodevo Allora Vediamo un attimino Cosa abbiamo perso I secchiali ce li abbiamo Le blaze rod Per fortunatamente Ce li abbiamo Non ho quelli dei magma Le magma cube Che sono cadute C'ho un call Due nether quartz Per fortuna Non ho perso troppo Abbiamo perso i gambali Però Non fa nulla Guardiamo l'enderman Ce lo combattiamo per bene Perché ho bisogno Veramente Di trovare Una santissima Ender pearl No ma sto gran ceppa Sta gran ceppa Che muoio consciousness Morito Allora cosa, ho fatto? Sono Ringezza rende regista. Eccolo qua ho chiuso la registrazione e sono dato guardarmi il video che era uscito fuori e sono riuscito a capire Dove è che ero morto chiedo다 sotto che anche il a base per searcharli meglio e mio santo dio sono. Troppo C'ho uno sfigo in corpo oggi che è allucinante Dunque Io direi che il video può anche chiudersi qui Perché ho fatto troppi casini oggi Ok perfetto Abbiamo trovato le ceste Gesù che culo Gesù che culo ti voglio troppo bene Tipo tanto troppo troppo Grazie a Dio Abbiamo trovato il mio diamante dentro le ceste Ci speravo veramente un sacco E per fortuna abbiamo trovato Ok un orso e coso qua Oh mio santo Dio Signore siamo tornati a casa Dunque direi che il video può finire qui Perché abbiamo fatto non tante robe Però è stato un episodio un pochetto strano Dunque preferisco chiuderlo qui E passare a far qualcos'altro Perché altrimenti qui passo tutto il tempo A far robe che non servono a niente Dunque direi che appunto Il video può terminare qui Ci vediamo in un prossimo video Grazie per la visione Scusate se è stato un episodio un po' trambustato Non ha senso questa parola Però va bene Dunque datene tutto Un bel like Se vi è piaciuto il commento Per supportare questa serie Mi piace E ci vediamo in un prossimo video Bella Ciao a tutti Grazie a tutti.